Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio carta bianca Rai 3 nel programma della Berlinguer. La fiducia in Giorgia Meloni scende di due punti rispetto a sette giorni fa, dal 47 al 45%. Segue Giuseppe Conte, invariato al 36%, e Matteo Salvini al 33%. In discesa anche lui di due punti, dal 35 al 33%. Scende anche Berlusconi, Calenda, Letta e Matteo Renzi. Nel prossimo video vedremo le intenzioni di voto politiche nazionali. Ovviamente i sondaggi sono da prendere assolutamente con le pinze perché vanno assolutamente in direzioni opposte. C'è chi parla di salita, chi parla di discesa, non solo nella fiducia dei leader ma anche nei valori dei partiti. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.